Matteo Calabrese per il Boiano tre punti pesanti contro il Campomarino, vittoria di fondamentale importanza. Sì, tre punti che ci servivano assolutamente per salire a 30, che fanno classifica ma soprattutto la prestazione di grosso cuore e carattere abbiamo portato a casa un risultato molto importante per noi contro un avversario che non ha mollato fino al novantesimo. Non era una partita facile, Campomarino ha cambiato anche il mister prima di questa partita, siete stati bravi ad affrontarla con il piglio giusto? Sì, abbiamo trovato un ambiente un po' destabilizzato dal campo allenatore, però la squadra del Campomarino era motivata e voleva fare il risultato qui. Siamo stati bravi a fare la nostra partita e a portare a casa il risultato, anche se un 1-0 e non l'abbiamo chiusa dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Il finale è un po' in sofferenza, avete chiuso il 9, però vi siete ulteriormente compattati? Sì, sull'assalto finale loro purtroppo abbiamo avuto due espulsioni, tra l'altro il portiere, però siamo stati bravi a resistere fino alla fine e portare 1-0 a casa. Avete così messo alle spalle la sconfitta di Campobasso e riprende la marcia verso la salvezza? Sì, venivamo da due partite complicate contro avversari molto forti e ci serviva per riprendere la nostra corsa fare questi tre punti.